È meno chiaro, ma questo lo scopriremo nel tempo, se col tempo si protegge dalla trasmissibilità. Cioè io ho fatto il vaccino, trasmetto il virus in caso che io lo incontri. Questo ancora non è chiaro, verosimilmente più no che sì. Non è che chi ha avuto il vaccino non possa trasmettere il virus. Questo ci dicono gli studi. Quindi non possiamo semplicemente dire che una volta tutti vaccinati il problema è risolto. Ma poco importa se tutta la popolazione fa il vaccino, perché la vaccinazione mira una protezione di gregge, cioè a far sì che il virus non trovi più ospiti nel quale replicarsi. Questa è una novità. Uno vaccinato può contagiare delle persone? Allora stiamo scherzando con facendo il vaccino? No, non stiamo scherzando, stiamo facendo la cosa che dobbiamo fare. Stiamo facendo la cosa che dobbiamo fare. Ma sappiamo che il... La vaccinazione non impedisce completamente la trasmissione del virus. Allora stiamo scherzando. Tant'è vero che si parla anche del fatto che non sappiamo tecnicamente quanto durerà la vaccinazione. E questo è un altro discorso, però per i mesi in cui durerà, non sappiamo ancora i quanti, siamo immuni per noi stessi e per gli altri. Poi ci diranno se dopo otto mesi dobbiamo farne un altro. Le prove anche in Italia stanno cominciando appunto a emergere, visto che la campagna è abbastanza recente. Non è completamente sicura una cosa del genere. Allora stiamo scherzando con facendo il vaccino? No, non stiamo... È possibile che uno debba fare dei richiami al tempo? No, non stiamo...